Stai cercando un lavoro? Dal 3 al 5 aprile al Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta arriva il Job Edition 3.0. Il lavoro cerca te. Porta con te il tuo curriculum vite e incontrerai tante aziende che selezionano personale. Partecipa ai nostri laboratori per imparare ad estreggiarti nella ricerca di un impiego. Grand Shopping o niente! A Molfetta Strada Statale 16 bis, uscita zona industriale. Sempre aperto la domenica!